e bentrovata anima speciale sempre qui su elena tione healthy life coach do il mio più caloroso benvenuto alle nuove persone che si sono appena iscritti al canale un ritrovato a tutti gli abituai sono sempre elena la vostra mind body mindset manifestation coach trainer prediletta siete sul mio fantabombastico canale miglior canale di manifestazione con la legge di assunzione d'italia e specificatamente per la manifestazione della persona specifica su questo canale ci occupiamo anche di aiutare le persone a disattivare i sintomi del dolore cronico nociplastico come bulbudinia e altri tipi di dolore pervico cronico e cronico sistemico come la fibro sono primariamente un health coach che opera dal 2012 e oggi vogliamo tornare a parlare di un tema estremamente estremamente importante dal titolo che cosa fare se tu ti senti esausta esaurita il totale burnout addirittura perché hai cercato cerchi di affermare il tuo risultato finale con la tua persona specifica ma ti senti che a un certo punto non ce la fai più esausta e come risolvere questo stato di cose quindi se ti senti esaurita in burnout o come che devi costantemente cambiare i tuoi pensieri flipparli affermare per la tua persona e non ce la fai più e magari è tanto 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 tempo che così è avuto dei risultati che non sono i risultati che volevi allora resta incollata a questo video questo canale perché in questo specifico video condividerò con te come risolvere definitivamente questa cosa veramente una volta per tutte finalmente ottenere la tua manifestazione ottenere la tua persona specifica e mantenerla quindi condividerò con te innanzitutto il perché tu ti senti in questo modo ok prima di addentrarci nel vivo di questa nuova puntata di questa nuova video pillola come di consueto sempre qui sul mio canale quello che voglio ricordarti è che se hai bisogno di ricevere coaching settini coaching professionale da un coach professionista pluricertificato per aiutarti a manifestare qualsiasi cosa desideri non solo persona specifica relazioni amore puoi assolutamente prenotare le tue sessioni di coaching ancora disponibili cliccando il link qui sotto nel box in descrizione del video tutti gli iscritti al mio canale hanno diritto un 5 per cento di sconto già applicato nell'agenda elettronica che trovi qui sotto dove puoi selezionare tipologia di servizio giorno e orario più comodi per te in totale autonomia i membri di questo canale bonati a meno di 4 euro al mese l'abbonamento è 3 99 al mese oltre a usufruire delle risorse riservate ai membri come la sfida dei 25 giorni per manifestare ps divina masterclass la mia masterclass dedicata all'amore di sé in 28 giorni e tutti gli altri contenuti riservati tutti gli abbonati hanno diritto un 10 per cento di sconto sui miei servizi di coaching offro anche il miglior corso di manifestazione totalmente dedicato all'utilizzo corretto finalmente delle affermazioni robotiche e focalizzate ti insegno passo passo come affermare correttamente per risultati rapidi non di mesi ma di giorni settimane per manifestare la tua persona specifica e qualsiasi altra cosa denaro carriera salute eccetera il corso è RASP Robotica Farming SB Mastery ed è 100 per cento in italiano totalmente abbordabile e puoi ottenere l'accesso anche in questo caso cliccando qui sotto nel box info nel primo commento pillato quindi torniamo a nel tema di questo video come risolvere se anche tu ti senti esaurita e in burnout quando sei lì che affermi per manifestare la versione della tua persona specifica che desideri il punto chiave per risolvere tutto questo per sbrogliare questa matassa da cui voglio partire e andare ad analizzare il perché tu ti senti così se questo è il tuo caso quindi iniziamo dal motivo per cui tu ti senti in questo modo esausa esaurita che voglia di mollare che non ne puoi più che sei stanca eccetera ok il motivo per cui inizio dal perché ti senti così è perché se tu stessi facendo tutto correttamente quando si tratta di manifestazione in generale e nello specifico della manifestazione della relazione con la tua persona specifica sono qui per dirti che non ti sentiresti mai in questo modo non ti sentiresti mai esausta esaurita sunk in burnout no e prenderemo un caso eclatante di una fuffologa che demonizza le affermazioni robotiche per corroborare tutto questo e andare ancora più nella precisione del perché questa cosa funziona e come farla correttamente io ovviamente nel corso vado molto più in profondità di quanto io possa fare un video, una serie di video ok se tu ti senti completamente esausta quando si tratta di manifestare la tua persona ecco quello che di tendenza alcuni fuffologi, finti coach che non hanno nessuna certificazione qualifica no ecco quello che queste persone sparano quando non hanno compreso come funziona noterai l'incongruenza che esce fuori nel momento in cui ti faccio questo esempio ecco una delle detrattrici delle affermazioni robotiche questa persona si definisce coach, è straniera quindi non è italiana si definisce coach e nel momento in cui io sono andata a controllare come al solito non esiste nessuna certificazione quindi è una delle classiche persone che non avevano idea di come sbarcare il lunario hanno trovato tutto questo e sono salite sul carrozzone per guess what? così? a caso? per hobby? per fare soldi esclusivamente per questo detrattrice delle affermazioni robotiche spara cose tipo l'affermazione robotica è stato un argomento di tendenza negli ultimi anni è iniziato con Sam Ingram nella comunità, nella community della Law Assumption della legge di assunzione e poi dice ma chiediti questo in un post pubblico su Instagram chiediti è sostenibile per il resto della tua vita poi continua e dice quindi nota le contraddizioni di questa persona che poi si sono riflessi in tante anche qui in Italia che sparano cavolate senza avere nemmeno contezza di quello che dicono senza avere nemmeno uno straccio di certificazione peraltro per fare quello che fanno il punto dell'affermazione è il nuovo modo di pensare esatto il nuovo modo di pensare guarda un po' poi continua e dice la parola affermare significa che qualcosa è vero stiamo un po' larghi su questo no? stai e come dire continuando a ripetere affermazioni che sono l'opposto della vecchia storia che eri solita pensare right? e stai affermando i nuovi pensieri come veri anche se non ci credi ok? quindi saturerai la tua mente con questi nuovi pensieri e alla fine la tua mente inizierà a pensare che siano veri sconclusionato anche questo non è esatto la tua mente inizierà a pensare che sono veri è un modo di scrivere scorretto la mente non crede che qualcosa sia vero o no non è così che funziona poi continua e dice se stai affermando roboticamente ripetutamente tutto il giorno sarà qualcosa che potrai fare per tutto il resto della tua vita? ma che domanda è? ma che domanda è? secondo questa tizia ciò non è possibile ed è malsano addirittura quando ho appena detto che stai ripetendo la nuova storia poi aspetta che arriva il bello intanto questo ci fa capire che questa persona ha una confusione in testa pazzesca e non ha capito assolutamente niente conclude con questa chicca non hai bisogno di affermare ossessivamente 10.000 affermazioni chi ha detto che uno afferma ossessivamente? cosa significa affermare ossessivamente? puoi farmi un esempio? a parte questo ripetiamo quello che ha scritto non hai bisogno di affermare ossessivamente 10.000 affermazioni davvero? ripeti già roboticamente ossessivamente fino a 80.000 volte al giorno ogni giorno da quando hai iniziato a parlare se pensi ripetutamente a qualcosa si chiama ossessione cioè ripetere pensare costantemente a qualcosa ruminare il punto e il contenuto che stai ruminando non il cosa stai facendo con i tuoi pensieri con la tua mente e qui la gente non si sa per quale motivo si perde nei bicchieri d'acqua nei bicchieri d'acqua ok quindi ripeti già almeno 80.000 80.000 volte al giorno ogni giorno e sulla persona specifica facciamo che ne fai la metà di quei pensieri almeno ripeti 40.000 volte al giorno ogni giorno ossessivamente sulla tua persona il punto cosa stai ripetendo fai tu conclude con un punto con questa chicca dice la follia di tutto ciò devi solo trovare i tuoi problemi di self concept fondamentali e affermare contro di essi pensare in modo diverso Gesù ma va là esattamente il che esattamente affermare roboticamente inoltre parla di problemi e parlare di problemi manifesta problemi self concept è lo stato dominante in cui tu risiedi il tuo stato di coscienza e come ci entri con i tuoi pensieri ripetuti la frequenza di quanto frequentemente pensi un qualcosa in un certo determinato modo quindi questa persona e tutte le persone che dicono queste fanfaluche ha le idee piuttosto confuse molto confuse il suggello di tutto questo del suo post è questo è il motivo per cui personalmente non supporto l'affermazione robotica perché non è sostenibile potrebbe aiutare temporaneamente ma sono sicura che sarebbe estenuante questo estenuante è il tema del video di oggi questa è l'apoteosi della contraddizione e di tutte le possibili castronerie non ce ne frega niente se questa persona non supporta l'affermazione robotica perché questa persona afferma roboticamente tutti i giorni dal giorno numero uno che ha iniziato a parlare scommetto che sui soldi e sul suo lavoro afferma roboticamente tutto il giorno il contenuto di quello che sta affermando se è pro o contro quello che vuole ti torna senso più chiaro ma andremo molto più in profondità in questo video quindi se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al canale mi fa piacere averti metti like e attivati la campanellina delle notifiche tutta questa boiata che ha scritto questa persona ripeto una persona credo sia UK se non vado errata perché le tue manifestazioni benedetta anima speciale che sei su questo fantabombastico canale stanno per esplodere in positivo il classico di Sam Ingram my business is booming my business is booming che richiama proprio un'immagine potentissima come ci insegna la stessa Florence come a vicine tutti gli altri il segreto non segreto dietro all'affermazione robotica le affermazioni robotiche sono il tuo flusso di coscienza niente di più niente di meno sei sempre nel tuo flusso di coscienza il punto è il contenuto modificare il contenuto del tuo flusso di coscienza è quello che ti fornisce risultati extra fast ultra veloci come la fibra ottica xxx volte molto più veloce del vecchio doppino di rame per capirci chi è esperto di connessioni telecomunicazioni si tratta semplicemente di ripetere perché la frequenza di un significato ti permette di entrare nello stato della versione di te che ha già i tuoi desideri ora istantaneamente la frequenza la frequenza è quanto frequentemente con quale frequenza pensi un determinato contenuto convivo felicemente con la persona che amo quante volte lo pensi io e PS stiamo insieme quante volte lo pensi frequentemente pensare questo contenuto riempie riempie tutta la tua coscienza è come un recipiente prende la forma di quello che le dai del contenitore prende quella forma si conforma in quel modo non importa cosa stai pensando cioè non importa il soggetto importa il come lo stai pensando quindi il rimuginio l'ossessione il continuare la frequenza di quanto pensi in un certo modo un qualcosa è un'affermazione robotica quindi vorrai utilizzare questo meccanismo per fare un'affermazione soggetto verbo predicato verbale complemento di quello che vuoi come già fatto è così semplice è così semplice non è sostenibile tu pensi quei pensieri della versione di te che ha già la sua manifestazione lo farai per tutto il resto della tua vita lo stai già facendo non puoi non pensare non puoi non comunicare non puoi non manifestare punto più chiaro vi torna al senso you guys quindi non diciamo fesserie chi demonizza le affermazioni robotiche non ha assolutamente capito come farle come funziona la manifestazione rimunginando un pensiero di ciò che penseresti se avessi già quello che vuoi è il segreto crea quei toni di realtà che manifestano in maniera vivida forte decisa coerente ben definita con convinzione tanto che diventa il tuo flusso di coscienza in cui non hai particolari reazioni emozioni cose è semplicemente quello che ti ripeti meccanicamente ogni giorno tutti i giorni il tuo chiacchiericcio monologo dialogo interiore conversazione interiore dieta mentale mio dio però che sudarella per rimettere le cose in piedi qui questa è la frequenza ripeti un pensiero che afferma che hai già quello che volevi continuativamente questo lo rende dominante questo quando è dominante si manifesta questa è la frequenza poche persone hanno capito questo fatto così semplice anche tra chi usa le affermazioni robotiche ma in questo video andremo talmente in profondità che sarà da oggi in poi impossibile sbagliare è impossibile vacillare è impossibile andare in spiraling impossibile non esiste più questo spiega perché tanta gente si stanca si stressa si rende impaziente e poi le demonizza perché dice che non funzionano e ovviamente anche quella è un'affermazione quindi le affermazioni funzionano comunque non puoi non affermare I'm sorry mi dispiace quindi innanzitutto certo inizi pensando solo i pensieri che penseresti se tu avessi già la tua manifestazione nel mio corso Robotic Affirming SP Mastery io ho una pratica che aggiunge una sessione mirata focalizzata una volta al giorno oltre al flusso di coscienza robotico costante e continuo ma tu se vuoi e puoi puoi farne di più in cui affermi le tue affermazioni affermi i tuoi pensieri allineati con convinzione autorevolezza con mocos con energia potentemente la rabbia ti aiuta in questo la tua realtà cambia quasi istantaneamente pressoché istantaneamente dirai denaro le persone amano pagarmi mi pagano continuamente costantemente la gente mi paga in continuazione incasso istantaneamente tutto il mio denaro forma fisica non parlare di non usare la parola peso non usare la parola dimagrire perché richiamano altri concetti no forma fisica perfetta ideale ho la mia taglia desiderata che ne so sono taglia 42 sono snella tonica soda mi sento benissimo ho un sacco di energia ho tanta vitalità e voglia di fare relazione mi ama così tanto mi tempesta di bellissimi messaggi ogni giorno ogni santo benedetto giorno mi scrive in continuazione ripetizione mi adora stravede per me non ce la fa più senza di me vuole stare con me io e p.s stiamo insieme io e p.s siamo tornati insieme convivo felicemente con la persona che amo sono felicemente sposata con la persona che amo e così via la tua realtà non può dirti di no ti deve per forza accontentare deve essere il riflesso quello che dici il tuo mondo 3d è uno specchio un enorme specchio tridimensionale un ologramma perciò si deve comunque sempre conformare a quello che affermi quindi se vuoi salire di livello su questa cosa commenta qui sotto nei commenti creo quello che penso creo quello che dico creo quello che scrivo per approfondire la mia personale strategia collaudata per farti sentire meravigliosamente bene mentre affermi e ottenere tutto quello che vuoi extra basta velocissimo elevate energie il che significa anche che puoi affermare da qualsiasi stato emotivo e non importa perché è la ripetizione che manifesta è la storia che ti racconti di più che si manifesta ok vogliamo ricapitolare le basi qui come manifesti la versione della tua persona specifica che desideri questo ha tutto a che fare con te che pensi dalla versione di te che ha la tua persona specifica dalla versione di te che ha già che vive già la propria relazione meravigliosa con la persona pensi è sostenibile per il resto della tua vita certo perché continui a pensare non puoi nemmeno pensare quindi pensi della versione di te che vive già la relazione che castronerie sparate c'è veramente da pazzi sono dissociate queste persone fortemente dissociate state nella larga ok quindi di nuovo ha tutto a che fare con te che pensi della versione di te che vive già la relazione con la tua persona lo fai riempiendo completamente la tua mente con questa nuova storia attraverso i tuoi pensieri cioè le tue affermazioni io e PS stiamo insieme punto a capo io e PS stiamo insieme punto è meraviglioso vivermi questa meravigliosa è meraviglioso vivermi questa bombastica relazione con la persona che amo sto così bene con la mia persona tutti i pensieri che pensi quando sei nella relazione è sostenibile sono i pensieri che penseresti ma guarda un po' ma guarda un po' le affermazioni robotiche non sono altro che i tuoi pensieri dallo stato di avere già tutto qui le affermazioni sono semplicemente i pensieri che pensi quindi quando inizi a riempire tutti gli spazi nella tua mente detto anche saturare perché lo saturi tutto lo spazio ok è tutto come dire vuoto di qualsiasi altra cosa è completamente full della versione di te che possiede già che ha già ottenuto la sua manifestazione attraverso questa nuova storia ripetuta i tuoi pensieri della versione di te che vive già la relazione le affermazioni sono i pensieri che pensi quindi quando cominci a fare questa cosa e cominci a ripetere solo e soltanto e a rimuginare solo e soltanto sono sempre la priorità numero uno della mia persona siamo perfezione insieme io e la mia persona specifica siamo insieme siamo tornati insieme siamo perfezione insieme la mia persona specifica mi ama mi adora stravede per me fa di tutto per farmi felice mi tratta come una dea è così premurosa piena di attenzioni per me passa tutto il suo tempo libero di qualità come facciamo tutto insieme siamo felici insieme conviviamo felicemente insieme ma che ne so quando cominci a riempire la tua testa solo di queste frasi con questa nuova storia è sostenibile le pensi quando sei dentro la relazione questo è il modo e o eviti di fare pensieri contrari se tu pensi a quell'argomento ci devi pensare dalla versione di te che possiede già non si tratta di affermare 24-7 come un pazzo non è questo quello che facciamo qui si tratta di affermare però quando l'argomento ti viene in mente e te lo ripeto se sei una persona normale al tuo significant other all'altra persona importante della tua vita guess what si chiama significant other persona significativa non è un estraneo qualsiasi o un amico che ci pensi e ci pensi spesso specialmente se condividete un progetto di vita ti torna senso e più chiaro quindi ci pensi e ci devi pensare correttamente per manifestarla e per mantenere la relazione punto quindi ora la tua persona specifica ti tratterà in accordo con quello che stai affermando se dici che ti ignora ti ignorerà se ci c'è uno stronzo si comporterà così con te quando inizi a riempire completamente la tua mente con la nuova storia in modo che questa diventa la storia dominante in te succede che la tua mente deve produrre prova in 3D di quello in cui è satura ed è qui e questo è il punto in cui la tua persona ti tratterà in accordo con quello che hai affermato e che continua a affermare cioè a pensare è così semplice è un'equazione semplice ora puoi notare il motivo per cui tutte quelle stupidaggini di questa pazzoide che ho preso tutte le altre persone che dicono quelle robe lì è semplicemente carta straccia che puoi tranquillamente buttare nel cesto della spazzatura it's rubbish spazzatura into the trash UK e l'altra è USA scegli tu spazzatura mondezza rifiuti quindi quando stai affermando quando inizi a riempire la tua mente con la nuova storia una storia che implica che tu hai la percezione di essere della relazione quello che voglio che tu comprenda è che tu non stai cambiando la 3D non stai cambiando la tua persona specifica tu stai cambiando la tua percezione di come stanno le cose intorno a te ok perché sempre tutto intorno a te tu sei al centro del tuo universo sei il potere operante sei l'unica persona cosciente nella tua realtà quindi ora decidi di decidi mantieni la decisione perché la manifestazione è una decisione continua congrua impegnata di ripetere storie meravigliose favorevoli a tuo vantaggio sulla tua persona specifica e voi due insieme in altre parole il modo in cui vedi te stesso te stessa te stessa in relazione alla tua persona e al resto del mondo in modo a tuo vantaggio quindi il mio messaggio qui è non esiste niente come inviare l'energia alla persona che si sente soffocata o mancanza o ossessione tutte queste sono stupidaggini di persone che non hanno capito che non c'è separazione siamo una sola mente tu sei in mancanza quando affermi il contrario tu sei in mancanza quando affermi che le cose fanno cagare tu sei in mancanza quando affermi contro il tuo desiderio punto quindi le persone che dicono quelle robe di qui sopra devono realmente piantarla e iniziare a istruirsi e darsi un'istruzione seria sulla natura di entrare e restare occupare uno stato di coscienza stai sempre occupando uno stato ci sono infiniti stati come lo occupi come shifti con la tua percezione i tuoi pensieri e i tuoi pensieri selezionano una specifica variante di realtà ora che puoi finalmente totalmente comprendere in verità e ricordare quello che hai sempre fatto per la tua interesistenza tu pensi non stai cercando di cambiare la tua persona specifica nella 3D tu stai cambiando i tuoi pensieri è notato come dissociata quella persona ci stai cambiando i tuoi pensieri però non è sostenibile stai cambiando i tuoi pensieri di te tu non la tua persona specifica la tua persona specifica non ha scelta sei tu che pensi non la tua persona sei tu che stai facendo quei pensieri se non sono a tuo vantaggio devi cambiarli punto dove le persone si intrippano su questa cosa è ciò che poi causa lo stress il burnout è che si avvicinano a questa cosa dal presupposto di sto cercando di modificare la mia persona specifica e farla conformare e quindi il focus l'attenzione non va nel posto giusto va nella 3D alla tua persona specifica come è in 3D ora no 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 devi togliere il focus della 3D 3D non c'entra niente stai sempre pensando pensare è dentro di te da uno specifico stato di coscienza quindi hai bisogno di spostare il tuo focus dentro di te ed eventualmente modificare i tuoi benedetti pensieri e pensare ai pensieri della versione preferita di realtà che contiene la versione tua preferita della persona specifica cosa c'entra focalizzarsi sulla 3D niente esempi di come le persone si esauriscono in queste cose ti do esempi concreti e pratici anche tratti proprio dei commenti che si leggono allucinanti a volte sotto i video la persona inizia ad affermare giorno e notte si esaurisce come un pazzo affermando affermando e magari ci va giù pesante con le affermazioni e magari afferma continuamente costantemente ma mentre fa questo fa anche un'altra cosa afferma e poi va a controllare afferma e poi va a controllare si ferma cerca il movimento o prove che la cosa sta funzionando in 3D ora io sono qua per dirti vado molto più in profondità nel corso che se anche tu fai questa cosa quando tu ti fermi e fai un controllo tu stai affermando contro la maggioranza delle persone la stragrande maggioranza delle persone non sa questo perché se una persona controlla è un'azione che viene dallo stato scorretto viene dalla versione di te che no non ha la tua persona e quindi devi andare a controllare e quindi che cosa fanno queste persone vengono poi a lamentarsi e dicono ma ho affermato perché la mia persona specifica ancora non mi ha scritto ho affermato così tanto perché ancora non c'è movimento perché non ho ancora ricevuto il contatto ho affermato fino a esaurirmi perché la persona specifica è così non così buona come per non dire altro perché si comporta in quel modo ho affermato così tanto perché la mia persona specifica mi ha bloccato gustato eliminato vede altre persone eccetera eccetera e io ho visto dei commenti pubblici qui sul canale e sono anche arrivati in via privata così disperati addirittura una che chiedeva oddio ma che cosa ha fatto quella persona che ha scritto è spio ossessionato da me è spio ossessionato da me ma scusa invece di fare domande del genere utilizza quell'affermazione apposto e ammesso non concesso che ognuno deve creare e curare sue proprie affermazioni che sente proprie e non prendere quelle di altri a meno che non le senta proprio ovvio che domanda è era completamente saturata nel oh mio dio non ce l'ho aiuto aiuto disperata completamente fuori 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 queste persone sono la tipologia di persone che non si prende mai nemmeno il tempo di ascoltare quello che insegno e io lavoro solo con persone il coaching funziona con persone responsive che seguono quello che dici in generale la vita funziona così ti devi prendere il tempo non solo di ascoltare e seguire e seguire una sola fonte corretta ma devi implementare quello che viene spiegato altrimenti rimani dove sei quindi può darsi che tu stia affermando veramente intensamente fino a che ti fa venire un mal di test che non finisce più e by the way se ti viene così significa che stai affermando nel modo scorretto non è il modo giusto di utilizzare questa cosa perché quando pensi normalmente non è così però poi dopo che hai affermato affermato vai subito a controllare funziona perché non è qui ma perché adesso sta facendo questo oh mio dio ma sta cadendo l'opposto oh dio non c'è movimento e stai lì a continuare a saturarti su questa roba fissandoti sulla 3D questo significa che sei focalizzata su una versione della tua persona specifica in 3D non in linea con quello che vuoi ma è come dire la 3D in linea con i pensieri che stai facendo significa che stai pensando contro stai affermando contro di te ti stai raccontando la storia non ce l'ho quindi devo inseguire controllare cercare di arraffare perché non ce l'ho non sei assolutamente ma proprio per niente la versione di te che ha la corretta dieta mentale che quindi ha la tua persona specifica ok è inutile venire a dire ma io ho fermato d'agosto non è successo niente poi così io non molle non significa nulla poi peggiori ancora di più non c'è movimento non mi ha scritto oh è così che tipo con me quindi stai confermando ancora di più a te stessa tutte queste cose stai saturando la tua mente con questa nuova storia mi spiace ma questo è quello che stai facendo perciò stai ottenendo risultati perfetti di quello che non vuoi è così ovvio normale naturale ora capire che quando tu guardi in continuazione alla 3d per verificare che funziona per convalida come si dice questa è la prova la prova del 9 che non sei davvero cambiata come versione di te non sei la versione di te che è in una relazione meravigliosa con la tua persona dove vieni trattata come un dio come una dea perché gli dei trattati così in una relazione meravigliosa non fanno queste cose ovvio se fossi davvero diventata la versione di te che ha la tua persona specifica riempiendo completamente la tua mente con la nuova storia non cercheresti mai movimento non cercheresti mai prove prove di cosa se già ce l'hai perché perché dovresti se sei già la versione di te che vive la sua storia d'amore meravigliosa con questa persona meravigliosa semplicemente non lo faresti perché sei troppo impegnata a diventare la versione di te che ce l'ha già tu sei esaurita se è il tuo caso perché continui a oscillare non ce l'ho ma non ce l'ho quindi questo è sempre un indicatore favoloso un indicatore interno il segnale poi se cerchi i segnali ti ho ancora peggio questo è sempre un indicatore che non stai facendo questo lavoro interiore correttamente forgetta scordatelo se sei costantemente focalizzato focalizzata su quello che sta accadendo in 3D lamentandoti dicendo tutto quello che la tua persona specifica sta facendo o non facendo di sbagliato se cerchi sempre movimento e non c'è movimento è di qua è di là ma una persona che vive già la sua relazione non dice queste cose la verità questo significa soltanto che stai affermando contro il tuo desiderio stai affermando roboticamente costantemente contro quindi cancella tutte le tue belle sessioni di affermazione che poi mi dici va bene se spezzetto la frase così e la faccio dieci minuti qui dieci minuti lì dieci minuti lì dieci minuti lì e poi tutto il resto del tempo fai così e poi mi chiedi se va bene la versione di te che sa il fatto suo non chiede queste cose cerchi sempre movimento cerchi sempre convalide cerchi sempre con ferme la verità questo significa soltanto che affermi e poi contro affermi affermi e contro affermi quindi il motivo vero per cui ti senti esaurita in burnout è sempre 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 101% perché sei benedettamente focalizzata su quello che accade in 3D il posto sbagliato invece devi portare la tua attenzione nel tuo panorama interiore nel tuo mondo interiore nella tua immaginazione i tuoi pensieri cambiare i tuoi pensieri no stai saturando correttamente per niente stai saturando al contrario no la tua dieta mentale non è non è non è appuntino per niente ti lamenti dai tutta la tua attenzione alla 3D invece di dare tutta la tua attenzione a quello che stai facendo dentro di te presta attenzione alle storie che ti racconti di più perché quelle manifestano la storia dominante manifesta è l'unico motivo per cui ti senti esaurita in burnout eh madonna ho fatto tutto questo lavoro ma la mia persona specifica niente non ho avuto nessun contatto per mettersi questa cosa non funziona non vedo nessuna prova bla 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 tutte affermazioni tutto quello che scrivi è un'affermazione le affermazioni manifestano l'unico motivo per cui ti senti così demotivata stanca esaurita scarica è perché e vuoi mollare è per questo motivo mollare il tuo sogno è per l'unico motivo per cui sei saturata nel contrario continui a vacillare avanti e indietro e grazie a chiunque sarebbe completamente esaurito il modo per sistemare questo stato di cose vuoi avere serietà da oggi in avanti prenderti un impegno serio con te essere serio con te stesso te stessa e veramente onesta con te stessa anima speciale e dirti ehi ok ho dato troppa attenzione alla mia realtà 3d invece di andare veramente completamente dentro di me con questo lavoro interiore da oggi in poi decido decido di focalizzarmi solamente sulla versione di me che ha già la sua persona specifica punto ho già ricevuto quindi tutto quello che avrò bisogno di fare è focalizzarmi completamente sul mio panorama interiore focalizzarmi sul riempire completamente la mia mente con la mia nuova storia ed è tutto quello che mi interessa tutto quello che mi interessa è stare focalizzata sulla mia nuova storia punto del resto non me ne importa più niente perché non conta niente quando fai questo le cose attorno a te avranno un cambiamento estremamente rapido perché sei focalizzata adesso su quello che sta accadendo dentro di te nel diventare la versione di te dal pensare dalla versione di te che possiede già la tua persona invece di cercare di cambiare controllare fare in 3d quindi ricorda non importa quanto affermi la montare delle affermazioni che fai non è di fatto la cosa che manifesta nel momento in cui tu ti senti esausta perché poi contro affermi 300 volte di più o perché dici o quelle stupidaggini che scrivono queste persone tipo perché hai dato troppo energia alla PS non esiste nessuna PS là fuori non puoi dare energia a troppo niente puoi dare energia a una storia versus a un'altra storia affermazione robotica è piacevole deve essere una pratica piacevole è l'unico motivo per cui ti senti esaurita perché cerchi validazione convalida nella 3d uscilli vacilli racconti una storia poi la controfermi non stai facendo il lavoro che serve se fossi davvero ben piantata ben piantata in te se affermassi veramente da un punto di comprensione che dice capisco che non c'è nessun altro da cambiare se non i miei pensieri la mia percezione sto facendo sto facendo per cambiare la mia percezione e sintonizzarmi sulla versione di realtà in cui ho già tutto quello che voglio potresti affermare cioè pensare tutto il giorno 24 7 e ti sentiresti meravigliosamente bene perché 24 7 stai comunque pensando e pensi della versione di te che hai già ottenuto quello che vuoi quindi non c'entra quanto affermi ma il contenuto la frequenza del contenuto di quello che affermi stai dando troppa attenzione alla 3D invece di focalizzarti dentro di te dare tutta l'attenzione alle tue storie addominanti alle tue affermazioni quindi di nuovo la chiave per sistemare questo stato di cose e far finire per sempre questo esaurimento è chiederti ok quanta attenzione ancora voglio dare alla mia 3D se tu stai dando più attenzione a quello che succede fuori per favore accorgitene e prendi posizione e come lo fai? con delle domande ti chiedi ok sto cercando costantemente convalida prova sto cercando costantemente movimento controllo sto cercando costantemente di convalidare quello che sto facendo in 3D sto controlando se la persona intanto si sta modificando veramente sto facendo queste cose se questo è il tuo caso vuoi essere estremamente seria e reale con te stessa e ricordarti oh no aspetta un attimo questa tutta questa cosa non ha nulla a che fare col cambiare l'altra persona alla 3D si tratta solo di cambiare la mia percezione diventare la versione di me che ha già ricevuto qualsiasi cosa sia persona specifica e tutto il resto ed è così semplice assumere che sia già così che significa decidi questo è anche chiamato distacco dalla vecchia storia dal vecchio stato lasciare andare il vecchio stato la vecchia storia e occupare il nuovo quindi io in questo modo shifto nella nuova timeline nella nuova versione di realtà nella nuova dimensione in cui la mia persona specifica mi ama e mi adora ha tutto a che fare con lo shiftare lo spostarmi in questa nuova dimensione come lo faccio con i miei pensieri divento la versione di me che ha già la mia persona ed è fatto attraverso entrare in un nuovo stato una nuova storia renderlo dominante con i tuoi pensieri e quindi come puoi notare la 3D è completamente lasciata fuori dall'equazione completamente il modo corretto affermi ti focalizzi su quello che affermi e poi continui con la tua giornata affermi ti focalizzi su quello che stai affermando e poi continui con il resto della tua giornata il modo sbagliato incorretto è affermi e poi controlli per il movimento affermi e poi controlli per il movimento affermi e poi vai a controllare che cosa sta facendo questo non è fare il lavoro e sicuramente ti porta a esaurirti perché semplicemente stai provando a te stessa a te stesso che no non sei la versione di te che è la tua persona perché sei focalizzata su quello quindi il mio messaggio qui è di fermarti un attimo smettere di fare lavoro a metà e portarti a chiusura e diventare la versione di te che finalmente possiede la tua persona specifica vuoi cambiare completamente il modo in cui ti approccia a questo lavoro il modo in cui vedi te stesso te stessa in relazione alla tua persona specifica voi due siete una coppia felice ora sei troppo impegnata a diventare la versione di te che ha già ottenuto quando fai questo la tua realtà 3d deve conformarsi e si conformerà in modo estremamente estremamente rapido tutto questo non non ci vuole chissà quanto tempo ci vuole semplicemente focus e disciplina e fare il lavoro completo sto semplicemente cambiando la mia percezione in modo che posso spostarmi in questa nuova dimensione in questa nuova timeline dove esiste la versione della mia persona specifica che desidero e la mia persona riflette esattamente quello che sto facendo quanto mi ama quanto mi adora quanto è completamente pienamente impegnato con me un'altra cosa che voglio aggiungere a cui voglio dare una soluzione è questa importante l'ho già detto e lo ripeterò se tu sei una persona che in questo momento si sente veramente veramente esausta perché magari ci sono anche altre cose che accadono nella tua vita eccetera voglio che tu ti prenda uno o più giorni di completa vacanza e ti dimentichi completamente della tua persona specifica e della manifestazione in generale e ho fatto un video su lascia stare la manifestazione sentitela circa un anno fa si intitola lascia stare la manifestazione torna normale in un senso vuoi andarti a goderti la vita immediatamente tipo adesso quindi oggi dimenticati completamente di tutto questo vai e fai qualcosa che ti ricarichi qualcosa che ami fare dormi riposa gioca divertiti fai qualcosa che ti ricarichi che ti aiuti a staccare completamente da in generale dalla manifestazione e quando ritornerai a tutto questo il giorno dopo o quando sarà voglio che tu ti faccia questa domanda che cosa andrò a fare ora di diverso rispetto a quello che ho fatto prima perché ricorda se fai questo lavoro correttamente non ti sentirai mai più in quel modo esausa esaurita eccetera puoi dirti qualcosa del tipo adesso mi faccio dono di godermi i miei desideri perché li ho già ottenuti o mi impegno a focalizzarmi completamente sul lavoro interiore e a fare pensieri allineati diventare la versione di me chi ha già il suo desiderio che cosa significa tutto questo in concreto significa che devi smettere con quella vecchia abitudine disfunzionale quella sì che è malsana quella è l'abitudine malsana scorretta di controllare il movimento di controllare la persona di inseguirla energeticamente smetti di controllare la 3d smetti di controllare se la tua persona specifica è cambiata o no se è conformata o no smetti di affermare contro perché se fai quelle cose stai affermando contro afferma però afferma per il tuo bene questo è il vero significato di amare te stesso te stessa quindi se attualmente la tua abitudine è affermi e poi controlli affermi e poi controlli affermi e poi controlli mamma mia vuoi assolutamente smettere ricorda quando controlli stai attualmente dicendo ehi non ce l'ho quindi devo controllare quindi stai controaffermando stai rendendo vano a tutto quello che hai fatto prima pensi contro la tua manifestazione voi due insieme quindi quando controlli per il movimento in 3d quando ti lamenti no la nuova abitudine che vuoi assumere che vuoi installare in un modo se vuoi manco fosse un computer visto che parliamo di affermazioni robotiche affermo e poi continuo con le mie faccende altre cose che mi riguardano affermo e poi continuo con le mie faccende perché sono nella relazione ora pertanto penso questi pensieri affermo e continuo con la mia giornata e così via è già fatto quindi vuoi davvero minimizzare il controllo il dubitare il vacillare lo stressarti cosa ti stressi a fare se è già tuo quella è un'abitudine malsana che vuoi rompere per sempre quando fai questo non ti sentirai più esaurita in burnout ti sentirai bene e questo è quello che ti permetterà di manifestare in modo estremamente rapido e veloce la tua persona specifica e qualsiasi cosa desideri insegno tutto questo molto 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 più in profondità su come padroneggiare completamente tutto questo nel mio programma Robotic Affirming SP Master ritrovi il link qui sotto nel box info del video nel primo commento pinnato e sarò veramente 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 felice di vederti dall'altra parte nel corso è tutto per questo video anche per oggi noi ci rivediamo alla prossima ciao